La tua paga settimanale più un extra, un bonus per il bel lavoro che hai fatto ieri sera. Brutta storia con quel tipo. Già. Sono felice di averti qui. Fai un ottimo lavoro. Grazie, Jerry. Ho dimenticato di dirtelo. Mia figlia verrà qui domani. Bella notizia. Ecco, potrei arrivare un po' più tardi. Verso le nove. Sì, ma certo. Bene. Grazie, Jerry. Come se la cava? Se posso chiedertelo. Se la cava. Bene. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.